buonasera e benvenuti a tutti da parte di matteo amici e live sport academy campo si sfidano inghilterra contro argentina subito tentato il tiro dopo lo schema della battuta per l'argentina che giocherà con fratini celesti e inghilterra in maglia classica bianca prova ora la percussione con cardillo arriva il tiro qua palla che termina sul palo e poi viene risputata in fallo laterale arriva lo schema su corner poi qui rosa non riesce a trattenere il pallone e gol del vantaggio per l'argentina su pallone sul secondo palo battuto sul corner sbuca 40 che anzi no scusate buca ammazza e di testa sigla il gol del 2 a 0 per l'argentina adesso erando riceve palla prova a portare su 4 contro 4 allargata la palla dalle parti di mazza che scarica con erando che prova a piazzare con il destro e colpisce solo il palo però adesso rosa fa suo il pallone fa riprendere il gioco velocemente cardillo chiama il pallone fantini in sovrapposizione che con il destro va alla conclusione prende il palo e qui romoli a tu per tu con la porta ci pensa troppo e viene chiuso soffalo laterale che viene battuto erando che scippa il pallone palla di ritorno per il 10 dell'albi celeste riesce nel dribbling poi con il mancino conclude e 3 a 0 per l'albi celeste al diciottesimo di gioco a zellini pronto sul calcio di punizione ma direttamente in porta e sblocca per l'inghilterra a zellini il risultato il tabellino con è il primo gol per i suoi al ventesimo di gioco adesso pallone in area di rigore qua in qualche modo pallone che arriva al tiro per rocchi e poi deviazione sotto porta da parte di 40 anzi no sempre da parte di mazza sigla il gol del 4 a 1 per l'inghilterra adesso pallone gestito da parte dell'argentina erando allarga bene qua sul lato debole del campo ma finisce il tempo che è a disposizione per questa prima frazione di gioco con il duplice fischio del direttore di gara che manda tutti quanti a riposo sul risultato di 4 a 1 per l'argentina squadre che rientrano in campo si invertono sul terreno di gioco e fischio che sancisce l'inizio della seconda frazione di gioco con inghilterra in possesso adesso perso in favore del favore laterale per l'argentina venditi a duellare una astuzia riesce a far suo il possesso ancora cardillo che allarga dell'uomo pensa per un attimo al tiro poi lo lascia cardillo risponde presente mancini che si sporca i guanti e con questa respinta fa anche ripartire i suoi chiusura pronta da parte di castellano che manda pallone in fallo laterale ancora possesso per l'argentina con 40 poi pallone allargato su erando con il destro apertura panoramica e arriva il gol del 5 a 1 per l'argentina tripletta da parte di mazza adesso fallo laterale pallone in avanti qui cardillo ancora mantenere il possesso senza successo possesso che non viene mantenuto per l'inghilterra che è costretta a scoprire il fronte per un nuovo attacco dell'argentina rosa si salva in qualche modo e adesso azzellini a duellare per il pallone cardillo qui si perde per un attimo il pallone ed è fatale perché c'è 40 recupero che sigla il sesto gol per i suoi bel destro dalla distanza pallone riconquistato da fantini con la pressione alta senza successo perché c'è filippetti che ha riconquistato il possesso adesso prova a sgassare palla al piede mazza che vuole fare tutto lui ed è 7 a 1 inghilterra al 42esimo di gioco rosa indio corto su dell'uomo che trova cardillo pall'allargata dalle parti di fabbrizi pensa al destro si distende bene a terra e parra mancini che salva i suoi in corner fabbrizi allarga ancora 40 riceve palla allarga poi palla dalle parti di filippetti che pensa al destro arriva il gol dell'8 a 1 per l'argentina con possesso sterile da parte dell'inghilterra che comunque riesce ad arrivare ad un 3 contro 3 in zona d'attacco a zellini va con il mancino direttamente in porta parata da parte di mancini che blocca e probabilmente a breve arriverà il triplice fischio infatti è così grazie a tutti per averci seguito da parte di matteo amici e live sport academy chiudiamo con l'argentina che trionfa 8 a 1 sull'inghilterra grazie grazie